Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono in direzione Livorno, due chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino, e in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Empoli-Est e Montelupo e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina. Sempre in FIPILI, code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. In A11, code tra Firenze-Ovest e Prato-Est, in direzione Pisa. In A1, rallentamenti tra Calenzano-Sesto-Fiorentino e il bivio con la variante di Valico, in direzione Bologna, e tra Firenze-Sud e in Cisareggiello, verso Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze, si informa che la rampa del viadotto Marco Polo, da Via L'Europa verso il casello autostradale, è chiusa per l'incidente. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, e buon viaggio!